Gentili telespettatori buona giornata, sondaggio noto sulle intenzioni di voto politiche nazionali fatto per porta a porta. Allora abbiamo Fratelli d'Italia al 28,5, la Lega all'8,3, Forza Italia 8,7 sorpassa orbai la Lega, mentre nelle PD il 19%, Alleanza Verdi Sinistra 4%, Stati Uniti d'Europa sarebbe al 4,5, le New Entry Santoro a De Luca si fermano rispettivamente 1,6 per Santoro, 2,5 per De Luca. Il Movimento 5 Stelle è quotato al 16,7% e Azione con il suo 3,7% si fermerebbe al di sotto della soglia di sbarramento, fa sapere l'istituto noto sondaggi. Grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti e grazie.